Bentornati in studio, naturalmente la discussione è continuata anche durante la pausa. Dicevamo Marasco, il problema delle pensioni è poi un problema, oltre all'aggiunta del fatto che allungando l'età pensionabile è più difficile per i giovani entrare nel mercato del lavoro, anche per quanto riguarda poi le pensioni dei giovani. Faccio degli esempi concretissimi, che spero lavorare. È possibile stare con i bambini all'asilo 27, 25 bambini a 67 anni? È possibile, questa è una domanda molto concreta, c'è una persona che si trova a gestire, quindi non sto facendo un esempio di un cantiere, 67 anni, sono delle situazioni ovviamente in cui bisogna distinguere tra lavori che sono di un certo tipo di usura e altri tipi di lavori, perché sicuramente abbiamo un tema di sostenibilità del sistema pensionistico, però non possiamo immaginare che questa cosa possa essere fatta un tanto al chilo, perché riguarda non solo la vita concreta delle persone, ma anche la vita concreta di chi lavora con queste persone. E questo credo sia una questione di onestà intellettuale, come penso sia una questione di onestà intellettuale affrontare il tema degli esodati, che sono persone a cui era stato prospettato un percorso e che si sono trovate a mezzo, diciamo, in una condizione tutt'altro che risolvibile. Però c'è un tema che viene sempre in coda, perché i giovani non pensano alla pensione, quindi non sembra un problema sociale immenso, però immaginare che oggi la generazione non di chi ha 20 anni, ma di chi ha 40 anni o 45 anni, se si fanno le proiezioni sui contributi versati, andrà in pensione con il 40 e quindi una generazione che ha avuto la fortuna di versare i contributi, quindi di avere un rapporto subordinato classico, quindi vuol dire una carriera lavorativa non interrotta, quasi impossibile, con un 40% di disoccupazione, quindi stiamo parlando di una porzione di privilegiati del mondo del lavoro, se si fa il conto avranno, si immagina facendo vari calcoli, che avrà una pensione del 40% della retribuzione attuale, quindi vuol dire che i privilegiati avranno questo tipo di pensione pubblica. È evidente che qui c'è da fare un ragionamento complessivo, perché altrimenti si perpetua, se non dinamizziamo le possibilità dei giovani, si perpetua una condizione per cui si chiede alla famiglia di ottemperare, ha una difficoltà, ma la famiglia, il genitore, è già in una condizione precaria, perché stiamo parlando di quella generazione di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè che magari ha perso il posto di lavoro e non riesce a rientrare o che va in pensione a 60 anni o 67 anni con quelle dinamiche pensionistiche. Questo sistema, cioè che, ripeto, non prevede una maggiore, come posso dire, sedersi, prevede maggiore dinamicità, ma deve essere visto nelle sue dinamicità, cioè non è possibile, ribadisco, che ci siano dei lavori che a 67 anni possono essere fatti in determinate condizioni. Biagiotti, ancora un attimo prendendo spunto da quello che era sul lavoro precedente, cioè lo sviluppo economico, l'equilibrio sembra abbastanza chiaro, se si aumenta l'età pensionabile diminuiscono le opportunità per i giovani, allora non si dovrebbe cercare di creare nuovi posti di lavoro, forse sembra quella la soluzione. Allora, i posti di lavoro non è che si creano con la bacchetta magica, né si creano con le leggi. Si crea opportunità di sviluppo, quindi si crea una maggiore attenzione al mondo dell'impresa, all'innovazione tecnologica. Oggi a Firenze sono stata, stamani a Smau, che è il salone delle smart city, l'innovazione tecnologica, il trasferimento tecnologico, sono settori nei quali ci possono essere grandi opportunità di sviluppo, di attenzione al mondo del lavoro per incentivare appunto il mondo del lavoro e noi bisogna puntare a qualcosa che sia attrattivo da questo punto di vista, perché noi certamente come Paese non siamo e non vogliamo essere competitivi con i Paesi dove esiste un dumping sociale, cioè dove il costo del lavoro è molto basso e dove la mano d'opera è effettuata a livelli veramente di uno stipendio, di una corresponsione bassissima. Noi bisogna puntare alle eccellenze, alla qualità e all'innovazione. Su questo noi davvero possiamo, lì in quel settore, dare delle opportunità, dare delle opportunità dando anche fiducia, perché molti giovani che si avvicinano al mondo dell'impresa, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico attraverso gli incubatori, attraverso le start up, hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di una spinta e anche coloro che vivono altre situazioni devono vivere in un mondo dove c'è un'attenzione al lavoro e alla capacità di veramente dare una relazione anche con il mondo del lavoro, mondo del lavoro, mondo dell'impresa, mondo del sociale. Il settore del sociale, nel quale il nostro paese, in particolare la Toscana, ci sono tante risorse, ci sono anche possibilità di investimento, è un settore inesplorato perché l'impresa cosiddetta sociale potrebbe essere un volano di sviluppo per il territorio, in quanto c'è sempre una maggiore domanda perché la popolazione è sempre più anziana e solo nel volontariato è difficile reggere ad un sistema di questo tipo. Quindi un'impresa sociale che agisce in questi settori e quindi dà opportunità di attenzione a un mondo del lavoro che è in difficoltà e di inserimento lavorativo di giovani, di meno giovani, di coloro che fuoriescono dal mondo del lavoro perché l'aspetto sociale non riguarda soltanto gli ammortizzatori sociali con la cassa integrazione ma è anche far capire a chi è in cassa integrazione come può essere poi utile alla società e quali possano essere le prospettive successive. Quindi sono tutti settori che davvero possono creare delle opportunità di lavoro e soprattutto di essere utili a se stessi e utili alla società che forse in questo momento manca un po'. Allora veniamo ai temi, alle vertenze principali, però partiamo da quello che è stato un discorso che avete affrontato in comune naturalmente in la posizione diversa, la Ricciarginori. È stato un po' un caso eclatante in tutta Italia, se ne è parlato anche perché è un'eccellenza effettivamente riconosciuta in tutto il mondo, si è conclusa bene, è stato all'ietto fine, almeno adesso Gucci sta lavorando con i lavoratori per rimettere in sesto la fabbrica. Quello è stato un bel esempio dove un imprenditore italiano, un'azienda italiana ha deciso di investire sul Made in Italy, è così di fatto, Gucci sta lavorando per rilanciare questo marchio e riportarlo ai fasti di un tempo. Allora Gucci è un grande marchio internazionale che opera sul territorio ed è un marchio fiorentino della tradizione fiorentina. La decisione di acquisire la Ricciarginori è stata una decisione strategica, veramente vincente, sia per Gucci che per Ricciarginori, perché Ricciarginori è un marchio della tradizione manifatturiera che costantemente dal 1735 produce porcellane a sesto fiorentino, quindi una qualità, un'eccellenza e professionalità che non potevano essere perdute e Gucci ha colto questa opportunità. È un grande marchio, Gucci ha grandi potenzialità di investimento e quindi io credo che davvero voglia far sì che il marchio Ricciarginori, le qualità e le professionalità di Ricciarginori torni ad essere a quel grande livello internazionale che era in un tempo. La Ricciarginori, abbiamo visto con l'apertura del negozio, la riapertura del negozio in via dei Rondinelli a Firenze, nel Palazzo Ginori, l'investimento importante che ha fatto proprio il segnale di discontinuità rispetto alle politiche degli ultimi 10-15 anni della gestione più finanziaria che manageriale e imprenditoriale della precedente proprietà e quindi la discontinuità che ha voluto dare, io credo che davvero con la Ricciarginori e con Gucci si possa coniugare quella visione di strategia per il futuro e quella attenzione alla tradizione del territorio che farà sì che Ricciarginori e il marchio Ricciarginori riacquisisca centralità tra i grandi marchi a livello mondiale. Marasco, nella gestione della Ricciarginori naturalmente i sindacati hanno fatto la loro parte, lei si è preso in prima persona quasi tutte le vicende e i passaggi di questa vertenza, c'è stato un momento in cui, soprattutto intorno all'offerta dell'Enoxapulum, i sindacati si sono divisi, c'è stato un po' di difficoltà soprattutto con i Cobas, poi alla fine Gucci ha messo un po' d'accordo tutti, è stata un po' una vittoria diciamo anche dei sindacati in qualche modo. Della rappresentanza dei lavoratori? Sì, diciamo una vittoria dei lavoratori, i sindacati vincono sempre, insomma ci interessa poco che vincono i sindacati. Qui mi sembra abbiano vinto i lavoratori, ha vinto un lavoro qualificato, cioè questo è uno dei casi in cui stiamo parlando di un saper fare depositato nel territorio che andava perso per sempre se non c'era questa soluzione. Poi scusami, era una situazione paradossale in qualche modo perché c'è il prodotto, c'è possibilmente anche l'acquirente, non c'era un imprenditore che volesse... Situazione paradossale, di queste situazioni ne capitano costantemente, te ne potrei fare un numero di esempi. Poi ne parleremo tra poco. Il tema vero, la lotta dei lavoratori, la polemica sull'acquisizione di Apolum era una polemica relativa al fatto che almeno come Ciginelli noi ritenevamo che una soluzione che scorporasse la produzione dal marchio, avesse le gambe corte, non avesse nessuna possibilità di valorizzare l'essenza della Ginori. L'essenza della Ginori era una storia da portare nel mondo di tradizioni italiane, se stese in questo caso, da far vivere nel mondo nella proiezione del lusso. E abbiamo costruito una campagna, ripeto, non che sia stato, ovviamente gli attori sono stati molteplici, ma aver costruito una campagna di fierezza del territorio su qualcosa che era un'identificazione tra brand, mani dei lavoratori e loro saper fare e Sesto Fiorentino, ha poi evidentemente coadiuvato, facilitato, comunque se inserite in un canale che è l'unica soluzione industriale che Ginori poteva avere, cioè un marchio che si fa forte di quella storia e porta nel mondo e nel suo marchio quella storia e attraverso questa cosa riproduce esattamente il fulcro della forza industriale di questo territorio. Ecco, se si dice che è un unicum che ci sia, se si è trovato sul territorio un player che è stato in grado di fare questa operazione, è un unicum perché di crisi risolte, diciamo, con questo impatto ci sono sempre dei sacrifici, ma non ce ne sono tanti, non ce ne sono affatto, anzi in questa fase non ce ne sono affatto, quindi è un caso più unico raro, però lo schema regge per altri, cioè il tema che in alcuni casi noi abbiamo, grandi potenzialità e grandi saperi che i lavoratori possono inserire nel prodotto, ma a scarso livello imprenditoriale per rischiare di produrlo e di portarlo all'estero, questo è un caso che ci capita a me drammaticamente. E' il caso della Seves? Un caso emblematico è quello della Seves, anche se secondo me si potrebbero fare tanti casi di crisi che attengono più alla difficoltà del livello imprenditoriale degli imprenditori che alla incapacità del territorio di esprimere se stesso, ma facciamo l'esempio della Seves perché è paradigmatico, perché è similare alla CINORI, anche se la CINORI ha un elemento di artigianalità e di abilità nelle mani e il Seves invece è una realtà industriale più, come posso dire, più rigida, perché va su un forno fusorio col vetro, ma il Seves è un prodotto che va nelle mani degli architetti più grandi del mondo per fare i grattacieli con il prodotto mattone in vetro più qualificato del mondo. Adesso piano ha scritto anche una bella lettera tra l'altro ai lavoratori, insomma. Esatto, nel senso, qui sappiamo tutti che stiamo parlando dell'eccellenza massima su questo tipo di prodotto, chiaramente è un prodotto rischioso, perché è un prodotto che va sull'edilizia, è un prodotto che è, passatemi la cosa, la fashion, perché è il massimo del fashion su un prodotto rigido, quindi presuppone che chi si prende quella bega, si prende una bega industriale seria, perché ha un'azienda grossa e deve fare un prodotto che va su progetti. Però la sostanza è che noi abbiamo, questa cosa portava a Firenze nel mondo e la sua bellezza nel mondo ancora oggi, questa azienda ha un saper fare unico al mondo, la sostanza ancora oggi è che manca un imprenditore che è in grado di dire, vabbè io su questo rischio. E la finanziarizzazione dell'economia non aiuta, perché la vicenda CINORI prima o questa hanno tutto, hanno questo taglio, cioè di imprenditori che fanno gli imprenditori come... non ci sono. E paradossalmente spesso arrivano dall'estero a fare shopping su queste realtà, perché il nostro capitalismo e il nostro sistema, io non voglio dare per forza la croce addosso a nessuno, anzi il nostro capitalismo è oggettivamente un capitalismo che tende a fare il massimo con la rendita e quindi a sfruttare spesso le leve finanziarie e quindi indirizzarsi in prima istanza su questi obiettivi e magari ci sono realtà francesi o tedesche che invece sanno fare industria e che vengono a prenderci i nostri gioielli e che riescono a far fruttare sul nostro territorio. Cioè questo è un tema, diciamo, di sistema che noi non possiamo non denunciare, che non possiamo non affrontare insieme. La politica in situazioni del genere che cosa può fare? Ora per la Seves effettivamente c'è stata una mobilitazione generale, diciamo, però spesso poi, diciamo, l'ultima istanza a cui si chiede, naturalmente prima l'imprenditore e le imprese, però poi si chiede alla politica di fare da tramite se non altro, di cercare... La politica anche sul caso Seves, noi l'abbiamo seguita insieme al sindacato in tutte le sedi, l'abbiamo sostenuta, abbiamo dato spazio e visibilità alla Seves. Ricordo una delle ultime cose abbiamo fatto insieme, è stata la proiezione da Palazzo Vecchio del countdown del 12 di giugno sul palazzo in Piazza Signoria e quindi dava il segnale, la sensibilità che la politica è vicino alla Seves. Purtroppo lì ci troviamo nell'ennesima situazione nella quale non ci sono una serie di soggetti finanziari che gestiscono e che hanno il patrimonio di aziende importanti, che possono avere prodotti importanti, che hanno un mercato, perché hanno un mercato e che per vari motivi e quindi che a noi sfuggono e soprattutto perché giocano su un mercato internazionale e globale che è al di fuori della nostra portata, non decidono di effettuare determinati investimenti o di effettuare determinate cessioni a soggetti che potrebbero avere anche le capacità imprenditoriali. Quindi non c'è solo la difficoltà dell'individuare l'imprenditore che ha capacità imprenditoriali, ma anche la volontà del soggetto finanziario che detiene la proprietà di certi pacchetti azionari e finanziari di cedere una parte di questi e che potrebbero avere ricadute significative a livello globale per i loro interessi globali. Quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un'impotenza da parte della politica. Però quello che noi abbiamo sempre ribadito è stato il fatto che lì nella zona e piano strutturale del Comune di Firenze è stato chiaro e preciso e quindi su quelle speculazioni di quel tipo non ce ne sono e non ce ne saranno. L'importante è stare vicini ai lavoratori e cercare quando si trovano dei varchi di soluzioni di imprenditori che vogliono investire, come è stato il caso della Gucci con Ricerci Nori, di dare l'ampia disponibilità perché ci sia una risoluzione della crisi in questo senso. Complici insieme a tutto questo anche il mercato dell'edilizia, che forse è uno di quelli che ha subito di più durante la crisi economica per quanto riguarda la service. Volevo passare a parlare anche, l'abbiamo accennato prima, dell'Esaot e poi più in generale del sistema delle aziende che lavorano nel settore farmacologico. Intanto vediamo un breve strato da un servizio sulla manifestazione che è stata fatta tre giorni fa a Firenze. Si fa sempre più incerto il futuro di Esaote, l'azienda che produce sistemi diagnostici biomedicali e che ha sede a Firenze e Genova. Il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico si è infatti concluso con la rottura totale e la dirigenza che ha riconfermato il proprio piano industriale che prevede 76 esuberi, di cui 31 a Firenze, e 120 persone in cassa integrazione a zero ore, di cui 50 nel capoluogo toscano. Porta chiusa dunque ai lavoratori che hanno organizzato un presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio in parallelo con il Consiglio Comunale. Il timore degli operai è che dietro la riorganizzazione prospettata dalla dirigenza ci sia l'intenzione di spacchettare e svendere Esaote. Questo confermerebbe in pieno l'attuazione di questo piano industriale che dal punto di vista di rilancio dell'azienda è suicida e quindi non è un piano industriale per rilanciare l'azienda, ma è un piano industriale per confezionare il pacchetto secondo le specifiche richieste dal compratore. In cerca di una sponda politica per sostenere la loro battaglia alcuni lavoratori dell'Esaote in delegazione sono stati ricevuti dal sindaco della città Dario Nardella, mentre altri si sono recati nel Salone dei 200 per assistere al Consiglio Comunale. Dopo oltre un'ora e mezzo di colloquio, Nardella si è detto pronto a incontrare il Ministro per lo Sviluppo Economico Federica Guidi e cercare insieme una soluzione alla crisi. E allora dunque questa era la situazione della Esaote, passiamo a parlare, stiamo più o meno nell'ambito medico anche se poi la Esaote si occupa della costruzione di macchinari biomedicali, passiamo però a parlare della Sims di Reggello, anche lì 136 posti di lavoro a rischio, lì si lavora invece sulla produzione dei principi attivi, è un'azienda che insomma rappresenta una produzione strategica per tante aziende farmaceutiche in Toscana e però anche lì la crisi in qualche modo ha colpito. Qui più che la crisi, ripeto, qui la crisi ha una faccia singolare che è quello che dicevo prima, cioè questa è un'azienda che ha delle difficoltà, non perché ha una difficoltà di mercato, ma perché il management della proprietà non ha fatto nessun investimento, per cui l'agenzia del farmaco ritiene oggi che ci siano delle non conformità tali da bloccare la produzione. Quindi stiamo parlando non di un'azienda, un altro caso italiano in cui riuscire ad avere un sistema imprenditoriale sano aiuta molto, perché in questo caso, ripeto, rischiamo di perdere 136 posti di lavoro e un'industria farmaceutica unica dal suo punto di vista sul territorio, non perché i principi attivi che fanno sono fuori dal mercato e quindi dobbiamo rilanciarli, ma semplicemente perché qualcuno non è stato sufficientemente attento e generoso nel costruire una fabbrica che avesse le condizioni di essere inappuntabile. Quindi quello che noi chiediamo su questo è che l'azienda immediatamente corregga questi 10 non conformità metta a disposizione, ovviamente le ingenti o meno ingenti peraltro, necessari interventi che servono per riorganizzare quella fabbrica e per metterla in sicurezza, altrimenti avremmo il paradosso di trovarci una crisi prodotta semplicemente da una non curanza di gestione e francamente con i cassini che abbiamo forse lo potremmo. Forse questi sono i primi da evitare. Devo dire una cosa in tutta onestà, che in questa vicenda sul territorio io posso dire, lo dico sulla vicenda Ginori massimamente, sulla vicenda Seves, ma mi sembra anche sulla vicenda Sims che l'elemento di forte coesione territoriale e di rapporto con l'istituzione e con la politica che su questi temi è molto presente, aiuta molto a costruire un clima forte in cui il territorio valorizza i propri gioielli. Questo è un elemento da non sottovalutare, perché la politica è vero che ha molto spesso le mani legate, però avere un elemento di grande visibilità del fatto che il nostro territorio è anche l'industria, la nostra possibilità di stare nel mondo e di portare, ripeto, il nostro livello di civiltà nel mondo passa anche da continuare a saper fare le cose. Il fatto che la politica sia in campo su questi temi e abbia una relazione forte col territorio e con le forze sociali è un elemento di grande aiuto, non solo per risolvere le vertenze, ma per impostare il tema del rapporto con le vertenze come un tema di priorità civile e sociale del territorio. Questo io, diciamo, su queste vicende posso dire che nelle relazioni che abbiamo avuto col territorio, questo sicuramente nelle grandi aziende, per cui le piccole, hanno sicuramente in questo territorio questa fortuna e questa possibilità di gioco in più. La Sims, diciamo, ci deve essere costruito sopra perché sarebbe veramente paradossale che ci trovassimo a discutere cosa fare della vita di 136 famiglie a reggello in una situazione del genere. Francamente mi sembra un'irresponsabilità che non ci possiamo permettere. Allora, chiudiamo cercando di dare anche uno slancio positivo. Noi abbiamo accennato prima la Lilli, sempre per rimanere in tema farmaceutico, quella invece è un'azienda sul territorio di Sesto Fiorentino che funziona pochi giorni fa all'inaugurazione di un nuovo stabile, di una nuova linea di produzione dell'insulina. Insomma, lì le cose sono state fatte per bene, vengono fatte per bene. Voglio dire, è un'azienda principe del territorio, in qualche modo. È un'azienda dell'eccellenza del territorio se stesse, ma direi fiorentino in generale, perché è una grande multinazionale che ha sede dalla metà degli anni 50 a Sesto Fiorentino e qui si è sviluppata, è cresciuta e ha fatto ulteriori, via via ha fatto sempre degli investimenti, credendo veramente nelle professionalità dei lavoratori del territorio e quindi aumentando anche via via negli anni il numero dei lavoratori e con le nuove linee di produzione ci saranno ulteriormente aumenti. Io penso che esempi come la Lilli e l'Italia siano esempi dell'eccellenza e della grande capacità dei territori come il nostro di attrazione e anche di investimenti esteri per l'elevata proprio professionalità che è presente, perché il CEO mondiale di Lilli che è venuto a Sesto Fiorentino proprio all'inaugurazione delle nuove linee e a presentare nuovi progetti di sviluppo ha preso lo stabilimento di Sesto Fiorentino come esempio per il livello mondiale, cioè per gli altri stabilimenti che loro stanno realizzando nel mondo e quelli che stanno riconvertendo nel mondo. Quindi è un'eccellenza da un fiore all'occhiello di tutti noi. E' un impianto strategico importante che noi dobbiamo sapere veramente cogliere il valore di avere sul territorio a Sesto Fiorentino una grande azienda come il Lilli. Insomma i lavoratori, quando c'è da mettersi in gioco in questo caso almeno... Io tra i tanti motivi per cui il Lilli si insedia e continua a investire su questo territorio vorrei sottolineare che nelle discussioni che abbiamo avuto in quella azienda è proprio come diceva Sara il fatto che il territorio fornisce giovani che sono sufficientemente formati da essere immediatamente messi in una dimensione che è quella della produzione ma a un livello molto elevato. Cioè la grande coesione sociale e il grande livello di conoscenza diffusa del territorio a sé stese è un elemento strutturale. Quindi certo che valgono gli aeroporti, valgono le strade, valgono i ponti, valgono le infrastrutture ma paradossalmente nell'eccellenza quello che vale è quanto il territorio possiede know-how, quanto il territorio sa. E siccome noi abbiamo un territorio che sa tanto perché abbiamo tanta storia e tanto sapere bisogna costruire le condizioni per continuare a coltivarlo, a farlo emergere e questa è una competitività fondamentale che passa dall'artigianalità di un prodotto di pelletteria alla ceramica, all'insulina. E questo è un elemento su cui fare sistema e fare politiche industriali è centrale. Fare politiche industriali oggi significa salvaguardare e riprodurre il know-how dei territori. E allora benissimo, con questo ragionamento ampio sul tema del lavoro io ringrazio i miei ospiti a tutti i nostri telespettatori, un auguro di buon proseguimento sulle nostre reti. E naturalmente Malacuola torna domani, buonasera. Grazie a tutti.